Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Ed eccoci finalmente in Nuova Zelanda. Che emozione! Penso che questo sia il paese più lontano da casa che io abbia mai visitato. Fa un po' di effetto, devo ammetterlo. Sono super elettrizzata e non vedo l'ora di esplorare questo posto che è stato in cima alla mia bucket list per tantissimo tempo. Ora sono qui già da poco, più di una settimana. Per ora non ho visitato molto perché sono rimasta intorno ad Auckland, la città dove sono atterrata, per qualche giorno. Così da mettere a posto tutti i documenti necessari per poter lavorare e per cercare un ban. Abbiamo deciso, infatti, di fare come la maggior parte delle persone che viene a visitare la Nuova Zelanda e comprare un ban così da poter viaggiare liberamente e poter dormire e cucinare liberamente. Ne abbiamo finalmente trovato uno, una vecchia Toyota Haes del 1995. Vecchia, dovrei dire una giovane, visto che ha la mia età. Al suo interno c'è un piccolo ripiano con un lavandino e dove possiamo appoggiare un fornello a gas da campeggio, così da poter fare da mangiare al chiuso anche quando fa freddo o piove. C'è anche un letto che si trasforma in un divano, che però lasciamo come letto tutto il tempo, visto che ci vuole molto tempo per prepararlo. Per ora, come ho detto, non abbiamo visitato molto perché vogliamo fare dei lavori al van prima di dirigerci verso l'isola del sud, dove farà più freddo. Per questo vogliamo aggiungere dei pannelli solari e un riscaldamento a gas. In questo modo potremo sopravvivere all'inverno anche se vivendo nel van. Il mio desiderio più grande in questo momento è spostarmi nell'isola del sud per potermi sistemare vicino alle città di Queenstown e Wanaka, poiché queste sono le più vicine ai resort sciistici. Come potete immaginare, mi manca moltissimo sciare e mi mancano le montagne. Anche se non dovessi trovare un lavoro ben retribuito o anche solo un lavoro part-time, per me sarebbe sufficiente perché, purché, io possa vivere vicino alle piste da sci. Inoltre, questo mi darebbe più tempo da dedicare al podcast e ai video per voi, quindi è una vittoria per tutti. Un'altra possibilità sarebbe trovare una casa dove poter fare house sitting o pet sitting, dove, cioè, vivremmo a casa di altre persone mentre loro sono lontani, così da badare alla loro casa e prenderci cura dei loro amici animali. Questa sarebbe la soluzione ideale per me. Ma chissà cosa succederà davvero, quali opportunità troverò davvero? Per ora non è possibile dirlo, bisogna aspettare e vedere. E mi va bene così. Sono emozionata e questo è sicuramente un buon segno. Auguratemi buona fortuna intanto e io vi terrò aggiornati nei prossimi episodi. Ciao! So, here we are, finally, in New Zealand. So, today's episode is about my first weeks in New Zealand. And, as always, now we'll have a look at the texts together a little bit more slowly and with the English translation. So, you can double-check if you understood everything and you can see which words you didn't know and you can learn new words, as always. Great! So, ed eccoci finalmente in Nuova Zelanda. So, eccoci, here we are, finally, in New Zealand. Che emozione! Scusatemi, ho starnutito. So, this was not part of the episode. Starnutire, to sneeze. And when someone sneezes, quando qualcuno starnutisce, you say salute. That means bless you. So, eccoci finalmente in Nuova Zelanda. Che emozione! So, it's how exciting! Penso che questo sia il paese più lontano da casa che io abbia mai visitato. So, penso che, I think that, questo sia il paese più lontano the, I think that this is the country that's the furthest from home, più lontano da casa che io abbia mai visitato, that I have ever visited, that I have ever been to. Fa un po' effetto, devo dirlo. So, it is quite impressive, I have to admit. Fa un po' effetto. So, literally, it does an effect. So, it is quite impressive. Sono super elettrizzata. So, I'm super excited. Sono super elettrizzata. E non vedo l'ora. Non vedo l'ora means I'm looking forward to. And it literally means I cannot see the time to do that. So, I can't wait to. Non vedo l'ora di esplorare questo posto, to explore this place, questo posto, che è stato in cima alla mia bucket list per tantissimo tempo. This place that has been on top of my bucket list, in cima. In cima means on top. And you can also use it to talk, for example, about mountains. And la cima is the top of the mountain. So, this place has been on top of my bucket list for so long. Ora sono qui. Già da poco più di una settimana. So, I have been here for a little over a week now. Da poco più, a little more than a week. di una settimana. Per ora non ho visitato molto. So, for now, I haven't visited much. Perché sono rimasta intorno ad Auckland. So, I have been around Auckland. So, near Auckland. La città dove sono atterrata. The city where I have landed. Atterrare, to land. Per qualche giorno. So, for a few days. Così da mettere a posto tutti i documenti necessari per poter lavorare e per cercare un van. So, that I could organize all the necessary documents. Così da mettere a posto. So, to put in order all the necessary documents. Tutti i documenti necessari per poter lavorare. So, to be able to work e per cercare un van. And to look for a van. Abbiamo deciso, infatti, di fare come la maggior parte delle persone che viene a visitare la Nuova Zelanda. So, we have decided di fare come la maggior parte delle persone. So, to do just like most people. La maggior parte è the biggest part of people. So, most people. Che viene a visitare la Nuova Zelanda. They come to visit New Zealand e comprare un van and buy a van. Così da poter viaggiare liberamente so that we can travel freely e poter dormire e cucinare liberamente. And we can sleep and cook freely. Ne abbiamo finalmente trovato uno. So, we finally found one. Trovare, to find. We have finally found one. And this ne means of it. So, of the vans we found one. Abbiamo finalmente trovato uno di questi. So, one of these. Ne abbiamo trovato uno. Una vecchia Toyota Highest I hope I'm pronouncing that correctly because I've never heard of it before. Del 1995. So, 1995. Vecchia. Dovrei dire una giovane visto che ha la mia età. So, I should say a young Toyota Highest since it's my age. ha la mia età. It has my age. So, it is my age. It's my same age. Al suo interno c'è un piccolo ripiano con un lavandino. So, inside there is a little shelf con un lavandino or we can eat inside even when it's cold or it's raining. Quando fa freddo o piove. C'è anche un letto so there is also a bed che si trasforma in un divano that transforms itself in a sofa sort of che però lasciamo come letto tutto il tempo that we live as a bed all the time so we don't hold it back into a sofa visto che ci vuole molto tempo per prepararlo since it takes a bit of time to prepare it. Visto che seeing that given that since ci vuole so it literally it wants a lot of time to prepare it which means it takes a lot of time to prepare it. Per ora come ho detto non abbiamo visitato molto for now we as I said we haven't visited much perché vogliamo fare dei lavori al van prima di dirigerci verso l'isola del sud dove farà più freddo. So for now we haven't visited much because we want to do some work on the van fare dei lavori to do some jobs on the van prima di dirigerci verso l'isola del sud so before we start going towards the South Island l'isola del sud dove farà più freddo where it will be colder. Per questo so for this for this reason vogliamo aggiungere dei pannelli solari we want to add some solar panels e un riscaldamento a gas and a gas heater a diesel heater probably in questo modo potremo sopravvivere all'inverno anche se vivendo nel van so this way we will be able to survive sopravvivere so vivere means to live sopravvivere survive with two b's in there sopravvivere so we can survive the winter l'inverno anche se vivendo nel van even if we're living in the van of course if we find a house we're not gonna turn the house down but you never know at least we have an option il mio desiderio più grande in questo momento è spostarmi nell'isola del sud per potermi sistemare vicino alle città di Queenstown e Wanaka nel mio desiderio desiderio is the wish so you can use the verb desidero that is I wish o il desiderio is the noun so the wish quindi il mio desiderio my wish my biggest wish più grande in questo momento in this moment è spostarmi spostarsi means to move and it's reflexive quindi spostarmi nell'isola del sud in the South Island per potermi sistemare vicino so to be able to settle let's say sistemarsi to settle vicino alle città di Queenstown e Wanaka so close to the cities of Queenstown and Wanaka notice here le città so it is plural but the noun doesn't change remember that when a noun ends with an A with the accent the plural form will stay the same so la città di Queenstown le città di Queenstown e Wanaka poiché queste sono le più vicine ai resort sciistici so poiché because these are the closest ones to the skiing resort or at least the ones I'm interested in come potete immaginare as you can imagine come potete immaginare mi manca tantissimo sciare e mi mancano le montagne so I miss everything about winter I miss skiing sciare and I miss the mountains anche se non dovessi trovare lavoro so even if I didn't find a job anche se non dovessi trovare un lavoro ben retribuito so even if I don't find a well-paid job ben retribuito well-paid o anche solo un lavoro part-time so even just a part-time job per me sarebbe sufficiente so it would be enough sufficient for me sufficiente purché io possa vivere vicino alle piste da sci as long as I can live close to the ski pist ski lifts purché so here I'm not saying perché but purché with an U purché and that means as long as inoltre questo mi darebbe più tempo da dedicare al podcast e ai video per voi quindi una vittoria per tutti so in addition to that this would give me more time mi darebbe più tempo condition this would give me mi darebbe più tempo da dedicare to dedicate to the podcast and the videos for you quindi è una vittoria per tutti so it is a victory for everyone everyone is happy un'altra possibilità another possibility sarebbe trovare una casa dove poter fare house sitting o pet sitting dove cioè vivremmo a casa di altre persone mentre loro sono lontani così da badare alla loro casa e prenderci cura dei loro amici animali so house house sitting or pet sitting it is where we can live in other people's house when they are away so vivremmo we would live again conditional vivremmo we would live a casa di altre persone so in the house of other people other people's house mentre loro sono lontani while they are away così da badare alla loro casa so that we can take care of their house e prenderci cura dei loro amici animali and we can take care of their animal friends friends animal questa sarebbe la soluzione ideale per me so of course this would be the ideal situation the ideal word for me but it's never so good ma chissà cosa succederà davvero who knows what will really happen chissà chissà is who knows and we spell it in a weird way maybe so it is like chi who and then you put two double s two s and and the a with the accent chissà and that is who knows who knows what will really happen chissà cosa succederà davvero quali opportunità troverò davvero so which opportunities I will really find per ora non è possibile dirlo for now it's not possible to say bisogna aspettare e vedere so we one must wait and see bisogna it is necessary aspettare e vedere e mi va bene così that's okay sono emozionata e questo è sicuramente un buon segno so I am excited and this is definitely surely a good sign un buon segno auguratemi buona fortuna intanto so intanto in the meantime in the meantime wish me luck auguratemi buona fortuna wish me luck so buona fortuna is good luck e auguratemi wish me good luck e io vi terrò aggiornati nei prossimi episodi so I will keep you updated in the next episodes ciao ciao